Sono 19.740 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in tutta Italia, con il dato regionale che si attesta a 1.470 pazienti positivi, in base all'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Nella provincia Nissena l'ultimo aggiornamento è di 91 nuovi casi di positività, tutti in isolamento domiciliare. 24 pazienti sono di Gela, 9 di Caltanissetta, 8 di Mussomeli, 8 di Sutera, 7 di Campofranco, 6 di Butera, 6 di Mazzarino, 6 di Niscemi, 5 di San Cataldo, 4 di Riesi, 3 di Sommatino, 1 di Acquaviva, 1 di Buonpensiere, 1 di Milena, 1 di Santa Caterina e 1 di Serra di Falco. Dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta, purtroppo è deceduto un paziente di Caltanissetta positivo al SARS-CoV-2. Sono 74 le persone guarite dal Covid, 29 di Gela, 13 di Caltanissetta, 8 di Sutera, 7 di Mussomeli, 7 di Niscemi, 3 di Mazzarino, 2 di Milena, 1 di Acquaviva, 1 di Campofranco, 1 di San Cataldo, 1 di Serra di Falco e 1 di Vallelunga.